A Donata del Piave il connubio tra gli alpini e la solidarietà si conferma ancora una volta. Gli sponsor delle penne nere hanno deciso di promuovere per sabato 22 aprile una giornata di raccolta alimentare. A ideare il progetto l'azienda di energia Ascotrade che ribadisce così il suo legame con il territorio. I prodotti acquistati in 36 supermercati Maxi tra le province di Treviso, Padova, Venezia, Belluno e Pordenone saranno destinati all'associazione dei veneti schiacciati dalla crisi di Rete Veneta e al Banco Alimentare. Abbiamo pensato a Mirella Tazzato, a Rete Veneta, ai veneti schiacciati dalla crisi perché rappresentano un'associazione importante che dà molto al territorio, che aiuta le famiglie, che sta vicino a chi è in difficoltà. Pensiamo che questa giornata sia importante per la solidarietà e dunque Treviso e il Veneto si merita un'associazione come quella rappresentata da Mirella per portare un po' di felicità a chi è in difficoltà in questo momento. In campo 150 alpini delle sezioni di Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto, Feltre, Belluno, Bassano del Grappa, Padova e Venezia. Gli alpini dovranno solo contribuire, come fanno con il Banco Alimentare, dal mattino alla sera, presidiare i punti Maxi che ci sono stati assegnati e poi alla sera porteranno tutto quello che hanno raccolto nella provincia di Treviso, presso la Mirella Tazzato, presso Sant'Artemio. Nelle altre province si arrangerà il Banco Alimentare a raccogliere e poi distribuire alle varie associazioni che hanno l'elenco tutte le varie derrate. Grazie.